Dario, ti piacerebbe rivedere qualcosa come l'Ocarina del Tempo e il nuovo Zelda? Ok, ora si parla di Zelda. Allora ragazzi, ci tenevo a dire questa cosa. Io mi sono riguardato più volte il trailer e sono arrivato a una conclusione. Allora, ci tengo a dire la mia in maniera un pochino più concreta su quello che sta succedendo e su quello che probabilmente succederà. Io sono convinto che vada così. Breath of the Wild, che cosa ci racconta? Breath of the Wild era un gioco dove Aonuma ha seguito la volontà di Miyamoto e ha riproposto, come sappiamo, il primo Zelda in una chiave moderna. Ha rivoluzionato l'open world e ha deciso di dare a Zelda ampio respiro. Zelda era famoso per la sua costruzione, per le sue meccaniche, però anche per essere super quadrato, super giapponese. Per andare in quella zona ti serve quell'oggetto. Quell'oggetto lo trovi in quel dungeon. Presso quell'oggetto, fai il backtracking e vai avanti nella storia. Finché non hai tutti i gadget, non puoi esplorare totalmente il mondo che ti viene messo a disposizione. Hanno deciso di rompere completamente con questa regola che comunque si porta avanti da tanto tempo e di dare appunto più libertà. E oltre a questo, a livello narrativo, hanno deciso di fare qualcosa di effettivamente nuovo. Cioè, invece di seguire una storia regolare che parte da un punto A ad un punto B e che a volte si dirama con dei viaggi nel tempo, con cambi di dimensioni vari, con una terra che viene a sommersa e che crea un mondo totalmente esplorabile con una barca. Cioè, nonostante questo, colpi di scena, eccetera, però si va da un punto A e si arriva a un punto B. E di solito il punto A è un inizio sempre molto simile e il punto B idem. A parte qualche gioco che osa un po' di più con sogni, viaggi metafisici e altre piccole chicche. Con Breath of the Wild hanno deciso di fare un'altra cosa. Hanno deciso di dare libertà nel gameplay, di dare anche libertà nella narrativa. Perché te parti con quasi tutto già a disposizione, hai un mondo pronto per te e soprattutto il re all'inizio del gioco ti dice Zelda è intrappolata nel castello, sta tenendo a bada la calamità Ganon, devi salvare il mio regno e mia figlia. In mezzo a questo c'è un po' di tutto. Perché te puoi andare a parlare con i tuoi alleati nell'ordine che vuoi, puoi farti aiutare dai tuoi alleati oppure no e soprattutto il mondo che vai a esplorare lo scopri, indovinate un po', esplorando. Cioè la narrazione si basa su degli indizi, su degli strascichi che il gioco ti lascia a disposizione. I ricordi, i personaggi che ti raccontano quello che è successo nei vari villaggi o sperduti nelle varie casupole e soprattutto quello che poi succede alla fine. I viandanti che trovi in giro e che riconoscendoti in te condividono le loro esperienze del viaggio e condividendo queste esperienze di viaggio te vai a scoprire effettivamente cosa è successo, vai a recuperare la memoria e ridiventi Link, ridiventi te stesso, ridiventi la guardia reale che proteggeva la principessa Zelda. Questo è bellissimo perché il selvaggio lo respiriamo in tutto, nella narrazione, nel mondo di gioco, nel gameplay. Siamo selvaggi a 360 gradi. Tutta questa infinita premessa per dire una cosa. Che qua, se vogliono fare qualcosa di diverso, devono spezzare queste regole di nuovo. devono andare a spezzare delle regole che loro stessi hanno creato e che sono state apprezzate dall'intero mondo videoludico, dall'intera community di Zelda e non solo, anche da quelli che Zelda non lo conoscevano affatto. Come con Ocarina of Time, che distrusse l'industria videoludica in maniera positiva, la ricostruì e disse ok, c'è un pre-Ocarina of Time e c'è un dopo-Ocarina of Time, con Majora's Mask fecero tabula rasa e proposero qualcosa che il pubblico non si aspettava, quando invece tutti credevano che Nintendo si sarebbe messa a fare un Ocarina of Time 2. E invece non è andata così. Qua, con l'ultimo trailer, si respira esattamente quello. Avete avuto un mondo selvaggio a disposizione, avete avuto un link inconscio, inconscio proprio come il giocatore, che acquisisce dati a seconda di quello che va a esplorare e come lo esplora, proprio come il giocatore. Adesso, no. Qua, si va ad attingere, secondo me, sono tutte ipotesi. Alla timeline di Zelda, che come sapete è tripartita, perché Sky Wars World ha dato il via a tutto. Ha generato la Triforza, ha generato i protagonisti della Triforza, ha generato la maledizione di Mortifer slash Demise, o Demise, non so come si pronuncia in inglese, che poi ha portato Link, Zelda e Hyrule a essere minacciata continuamente da Ganon slash Ganondorf. Poi, a un certo punto, con Ocarina of Time, il gioco che ha distrutto tutto, che ha messo appunto un paletto, mette un paletto anche nella timeline di Zelda, che si tripartisce. Quindi, se l'eroe viene sconfitto, si va verso A Link to the Past, e poi gli altri giochi, fino al primo Zelda, Zelda 2. Se l'eroe trionfa, si va nel mondo di Majora's Mask, di Twilight Princess, e basta. Se invece si va nel, se Ganondorf viene sigillato, poi Ganondorf si risveglia, distrugge tutte i rule, la inonda completamente, e si va verso la timeline di Toon Link, quindi Wind Waker, Phantom Hourglass, Spirit Rex. Ora, cosa succede? Che se vogliono veramente cambiare tutto, devono slacciarsi dalla narrazione di Breath of the Wild, totalmente libera, con la lore, con i ricordi, appunto, con queste informazioni che devi ricomporre con un puzzle, e devi darmi una narrazione completamente diversa. Sì, Link, timeline Link adulto-bambino, perché, se l'eroe trionfa, ovviamente, abbiamo la Child Era, e la Adult Era. Quindi, devono trovare una narrazione più concreta, una trama più diretta, più incisiva, che vada a toccare delle cose che secondo me Zelda non ha mai toccato. E secondo me, da questo trailer, possiamo avere ciò. Secondo me, faranno credere al pubblico, o riveleranno al pubblico, che questa narrazione che ci beccheremo in faccia con Tears of the Kingdom, era sotto i nostri occhi fin da Breath of the Wild, ovvero con gli zonai. I zonai sono una cosa che Nintendo ci ha detto che esiste, in Breath of the Wild, ma che molte persone non hanno colto, non hanno visto, non hanno nemmeno scoperto. Gli zonai sono una razza del mondo di Zelda, dell'antichità, che hanno lasciato varie testimonianze su Hyrule. Rovine, statue, pilastri, tutte robe che fanno capire che c'erano, che loro ci sono stati nell'antichità della Hyrule di questa timeline. Perché Aonuma è stato molto furbo, non ha detto dove si posiziona Breath of the Wild, ha detto che si posiziona sì in fondo alla timeline, ma quale no? Lui ha detto ma si può posizionare in fondo a tutte, quindi libertà del giocatore. Ma questa, secondo me, è una cosa che verrà smentita con Tears of the Kingdom. Aonuma è stato zitto perché non lo voleva rivelare, ma secondo me o le fondono tutte, ma si giocherebbero in un'occasione importante, oppure si colloca in fondo a una delle tre timeline, generate da Ocarina of Time. Quindi bisogna vedere i guardiani, i sacrari, tutti i dispositivi, la tavoletta Sheikah, appunto, è tecnologia Sheikah, oppure ci incastrano anche questi Zonai. Perché gli Zonai sono dei veri storici, sono a quanto abbiamo visto dal trailer forse degli uomini dinosauri, tra l'altro una razza molto figa del mondo di Zelda che viene introdotta in questa maniera fighissima, e secondo me gli Zonai saranno, e qui lo dico, magari dirò una cazzata, saranno i protagonisti delle vicende di Zelda che saranno legate al passato. Secondo me Zelda, quando cade in quel crepaccio, nel terzo trailer che abbiamo visto, e quando dice Link viene a cercarmi, si riferisce viene a cercarmi nel passato. Zelda verrà scaraventata indietro nel tempo, secondo me, e Link verrà, rimarrà nel presente. Anche perché quando Zelda guarda in cielo, o vediamo dei filmati con Zelda nel trailer, in cielo non ci sono le isole. che invece vediamo nelle scene con Link. Quindi secondo me lei nel passato e gli Zonai la stanno aiutando o si stanno interfacciando con lei. E secondo me avremo un nemico nel mondo di Zelda, nella realtà di Zelda, poi magari è una realtà alternativa a Zonai. I Zonai secondo me ci sono 100%, però secondo me nel passato. Abbiamo un nemico nel mondo di Zelda, Mortifer, e abbiamo un nemico nel mondo del presente. Ganondorf secondo me si approfitta dell'assenza di Zelda per inferire, per schiavizzare i ruler. E Mortifer, suo antenato spirituale, diciamo così, invece, è nel passato. Anche perché non scordiamoci che se non erro in Skyward Mortifer viene intrappolato nella spada di Link. Quindi se questa spada si spezza, non lo so, succede qualcosa alla spada di Link, anche se nel trailer sembra integra, ma nel logo sembra spezzarsi tra passato e presente, l'uroboro, come vi ho detto, mi fa pensare a Skyward's World che ha dato il via a tutto il mondo di Zelda, e dove Mortifer maledice le incarnazioni di Link e Zelda, ci si può collegare con Mortifer che chiude il cerchio nel futuro della timeline di Zelda, ovvero Breath of the Wild che si posiziona alla fine. Secondo me sarà così. E vedere i due cattivi insieme, o che si aiutano dal passato al presente, oppure che addirittura Zelda dovrà sconfiggere nel passato il Link nel presente, beh, andrebbe a creare qualcosa di diverso, andrebbe a creare uno Zelda nuovo, uno Zelda che riesce ad essere molto diverso da Breath of the Wild e non solo per le meccaniche che va bene, sono diverse, sono aggiunte, abbiamo un mood diverso e tutto, ma se con questa narrazione vincono, vincono perché creano un mondo diverso, i protagonisti vivono vicende assolutamente diverse da Breath of the Wild. E vi dico la verità, secondo me non ci sarà tutta la mappa. Secondo me arricchiscono e divertificano molto solo alcune zone, ma tante zone le eliminano, le tagliano, però, magari mi sbaglio, e sono certo al 100% che per differenziare ancora di più Breath of the Wild da Tears of the Kingdom metteranno i dungeon, torneranno i dungeon, perché danno un'altra impressione, subito ti fanno capire che ok, sto giocando qualcosa di diverso, meccaniche nuove, narrazione nuova, mood nuova, mappa ridotta, ma cambiata, stravolta, eccetera, però tanti dungeon in più, magari enormi, aperti, da finire, in più mandate, e hai fatto un gioco diverso. Ma, nonostante The Switch sia una console che fatica e tutto quello che sappiamo, sei riuscito a riciclare tanta roba. E comunque ci hai messo un botto di anni per farlo, eh. Ho detto la mia e chiudo per sempre con Zelda fino all'uscita del gioco e farò una run completissima. Una maratona, 12 ore, 14, me ne frega nulla, il primo giorno o il giorno prima vado a diritto e poi continuerò finché non lo finisco. Per me quello che appoggia la mano sulla spalla di Zelda è uno Zonai, è il re degli Zonai, è la principessa e il dinosaurino che abbiamo. rivediamo. Poi vediamo. Magari ci incastrano anche i Twilight. Mi piacerebbe molto rivedere Twilight dato che c'è anche Link Lupo come D.L. Shiddel. Però non lo so, secondo me può darsi che può darsi che non sarà così. Però rivedere Twilight mi sarebbe piaciuto. Cioè dopo l'ultimo trailer per me i Twilight non ci sono ma ci sono i Zonai e c'è Mortifer. Questo poi magari verrà smentito e quello che vediamo all'inizio del trailer è come dicono in America il Ganondorf Raider atrato che si sta trasformando magari a una mutazione e poi lo vediamo come diventa effettivamente nell'artwork ufficiale e nella seconda parte del trailer. Però secondo me non è così. Secondo me non sarà né migliore né peggiore sarà qualcosa di completamente diverso come al solito.